Passa da Montorio, dall'ufficio territoriale per la ricostruzione allestito nel rinnovato storico Palazzo Patrizzi. Tutto quello che riguarda il post terremoto per i comuni terramani dentro e fuori il cratere sismico, ma di lavori e cantieri per la sistemazione degli immobili lesionati dal terremoto aquilano non c'è traccia, nonostante siano trascorsi più di cinque anni e a Montorio e dintorni, inclusa a Teramo città, di fatto è tutto fermo. Di fatto abbiamo trovato una situazione quasi completamente bloccata, cioè in cinque anni si è fatto ben poco e lo si vede girando per Montorio. La ricostruzione di fatto non c'è, sta partendo adesso. Ma se non vengono predisposti i piani di ricostruzione per i centri storici, nessun lavoro potrà mai iniziare e a questo ritardo si aggiungono poi due bandi, uno annullato su richiesta dell'ordine degli ingegneri e l'altro bloccato. A Montorio i centri storici devono essere ricostruiti per mezzo dei piani di ricostruzione che a tuttora non ci sono. Questi li doveva predisporre il comune di Montorio, non sono stati predisposti, è stato fatto un bando di gare che tuttora è ancora fermo e che noi sbloccheremo. Sono otto attualmente i tecnici impiegati presso l'UTR, l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, ma non bastano. Adesso arriverà il nono, l'Ufficio Centrale per la Ricostruzione integrerà il nono e saranno effettivamente in pieno organico nove tecnici. Questi tecnici in questo momento si stanno occupando delle pratiche fuori dai centri storici, quelli che in realtà non vengono gestiti con i piani di ricostruzione. Burocrazia a parte, fatto sta che le attività poste in essere dal comune di Montorio in questi anni, fino a due mesi fa, possono essere considerate pressoché nulle. E a confermarlo sono i finanziamenti sbloccati finora, 1.600.000 euro in un anno a fronte di 1.200.000 sbloccati in soli due mesi sotto la nuova giunta guidata dal sindaco Gianni Di Centa. Sono 15 intanto i comuni convenzionati con l'Ufficio per la Ricostruzione di Montorio e un totale di 2.000 pratiche, sono quelle tuttora in evase. I comuni fuori Montorio, quindi fuori cratere diciamo, vengono chiamati in questo modo e quindi il comune di Teramo, lì devono essere nominati tre tecnici in modo specifico che si occupino proprio di queste pratiche. In cinque anni si è fatto quasi niente.